Sì, giovedì mattina partono sette chiamoncine da crema e tre chiamoncine da trevillo che loro anche vogliono aiutare per portare gli cibo. Si è trasferito negli spazi della colonia seriana il centro raccolta aiuti da inviare in Ucraina. Il centro estetico di prossima apertura, messo a disposizione dall'Iudmila Ventonyuk, Ucraina da 15 anni in Italia, non era sufficiente a contenere la quantità di materiale raccolto. La generosità risposta dai cremaschi è stata tale da richiedere una collocazione più ampia. Per questo il comune di Crema ha autorizzato gli spazi della colonia, più accessibile anche ai mezzi di trasporto. Qui, dalle 8 alle 10, la comunità ucraina raccoglie cibo, indumenti pesanti e medicinali. Giovedì mattina saranno portati al confine tra Ucraina e Romania. L'Iudmila lancia però un appello di quello che potrebbe servire alle famiglie che arriveranno in città. Abbiamo bisogno anche di giochi per bambini, quando tornano loro qui, perché sono passate quella strada brutta, stressante. Magari con i giochi riusciamo a aiutare, parlare, giocare e vedere che la vita alla fine è bella. La macchina dell'accoglienza nel frattempo si è già attivata. Comune di Crema e Caritas, coordinati a livello provinciale da prefettura, hanno già raccolto molte disponibilità di famiglie ad accogliere nelle proprie case mamme con bimbi ucraini. 30 le mail arrivate solo nel fine settimana. Comune e Caritas dovranno vagliare le richieste. Non appena i profughi ucraini arriveranno in città, potranno trovare locali adeguati e un'ospitalità dignitosa. Nell'emergenza tuttavia, l'Iudmila ha messo a disposizione i locali del futuro centro estetico. In attesa di una collocazione migliore, offrono ospitalità a due mamme con tre bambini. Adesso sono nel mio centro estetico due mamme con tre bambini, che sto aspettando il locale anche per loro. Per questo, pena mi libero, faccio il centro estetico anche io, vado a lavorare perché ormai ho bisogno anche io.